Però, secondo me, tu non ti puoi permettere di dire a una donna, che sia Beatrice, chiunque tu voglia, fai la pace con tuo padre e poi ne riparliamo, perché comunque quelli sono argomenti talmente personali e intimi che francamente disturbano un attimo. Alfonso, scusami. Allora bisogna dire anche alla signora Beatrice che tempo fa si è permessa di dirmi misteri nel mio rapporto con mia madre, che quella sera poi è venuta a farmi la sorpresa. No, io gli dissi solo che mi sembrava un bambino che cercava la mamma, ma non ho mai commentato la madre. No, perché ne abbiamo già parlato oggi. Ok, quando ha finito parlo, altrimenti non parlo, grazie. Io dissi, Alfonso, ti ricordo la sera che viene la mamma, tu mi chiedesti di lui come lo vedi, io dissi, mi sembra delle volte un bambino che cerca la mamma, ma non commentai minimamente la madre. No, scusami Max, voglio ritornare a quello che ti ho detto. Fammi capire, ma perché ti permetti di dire queste cose? Cioè, perché sono cose pesanti e inti. Perché è un mio pensiero, è un mio pensiero. Vabbè, ma è un tuo pensiero che indaga nella sensibilità l'intima di una donna. Come lei si è permesso di dirmi che io devo cercare, sto cercando nelle donne e mia madre, perché è mancata mia madre nella mia sfera emozionale. Lei non l'ha detto, tu invece sei tanto chiaro. Ho detto, Massimiliano, non l'ho mai detto, in misteri ho detto, lui mi chiese come ti vedevo e ho detto. Evidentemente hai problemi di memoria, non ti ricordi le sceneggiature che scrivi? No, Alfonso, tu te lo ricordi, io dissi, mi sembra ogni tanto un bambino che cerca la mamma. No, Massimiliano, stai dicendo bugie. Hai la memoria un po' fuori allenamento. No, sei tu che distorci la realtà. No, comunque Massimiliano, ascoltami, quando dico una... Senti, Sara Ricci, non è che io non ti faccia parlare. Prima vorrei concludere il mio discorso, poi ti faccio parlare come parlano tutti.